...della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Ma che bello! Cazzo da... Ma che bello! Buongiorno amici, sapete perché siamo qui a fare un altro caso? Perché... Sentite che scambio di messaggi in Whatsapp c'è stato tra Luca Alba e Marco Mazzoli alle 5 di ieri pomeriggio. Aia! Parte Mazzoli. Alba aveva azzeccato col blocco delle altre radio, dove cazzo è? Risposta di Luca Alba. È pronto Marco, non sono riuscito per la diretta ma mi mancano solo 10 minuti di montaggio, finisco adesso. Mazzoli, ma è martedì, c***o, porco. Luca Alba, stamattina mi hanno spostato due volte dal computer e ne ho due di scenette. Mazzoli, tu devi dormire in radio pur di consegnare due scenette al giorno, perché c'è gente che si spacca la schiena per creare sto programma. E tu ne stai giovando solo delle fatiche fatte altrui. Questo era lo scambio di messaggi Whatsapp. Questa mattina arrivo in radio alle 8 e mezza, 9, metto i piedi sotto il mio banco, dove c'ho il mio computer, e i miei piedi incappano in qualcosa di molliccio. Dopo aver tirato tre o quattro scarpate a questa cosa molle e aver sentito in mezzo a urletto, ho capito che era Luca Alba che veramente ha dormito qui in radio. Grande Luca, sapete perché? Perché sta cercando un nuovo lavoro. Mondo Radio. Sì, buongiorno, senta, sono Luca Alba di Radio 105. Sì. Posso rubarle due minuti? Certo. Senti, allora, io lavoro per un programma che si chiama Lo Zodi 105. Sì. A dicembre mi scade il contratto e non voglio rinnovarlo, insomma. Non vuole lui. Vorrei capire, appunto, sto cercando una radio locale per fare qualcosa da solo, sostanzialmente. Mi piacerebbe potermelo permettere, Luca, onestamente. Perché? Io sono l'editore di Mondo Radio, quindi siamo molto, ma molto più piccoli. Lo so benissimo. Io guarda, allora ti dico, prima di te stavo parlando con Radio Ciccioriccio, quindi. Cioè a me non interessa il nome della radio se mi ascoltano in un milione e mezzo come lo ZO o in 20.000 come un'altra radio o 2.000 o 100 persone. Io faccio il mio contenuto, posso scrivere per altre persone. Io qua, per esempio, oltre a fare la gran parte delle cose che vengono fatte nello ZO, quindi dalle scenette all'istituzionale e tutto quanto, viene scritto da me. Sì, mi aiuta Fabio Alisei perché è un entore di Colorado, quindi ha la battutina pronta, diciamo, sì. La battutina. Bravino. Ecco, però, nel senso, anche perché scrivere per dieci persone non è che sia semplice. Io sono sempre dietro e adesso è ora. A livello economico, diciamo, non ne parlo neanche, nel senso che ovviamente qui sto bene. Però scrivo un programma della mattina, non so se lo conosci Marco Galli. Così per Paragone, la Maionchi, la Sera che fanno la gabbia. Vai a curare le notizie, segui, chiama, fai, perché ho delle amicizie, allora si chiama il politico. Cioè, diciamo che è inizia a essere un po' troppo. Mi dispiace anche andare via di qui, eh. Parlavo col direttore De Robertis che sta facendo di tutto, mi tiene qui in tutti i modi. E mi bello, quando, se vieni giù per il Ponte dei Molti, dammi un colpo di telefono e speriamo di incontrarci. Va bene, va bene, va bene. L'importante era un attimo conoscerci. Va bene, grazie mille, eh. Di niente. Ciao, Luca. Quindi Marco, come avrei potuto sentire, stacci attento, è già il secondo avvertimento che ti diamo. Questo se lo portano via le altre radio. Ma speriamo. Tant'è che lo stesso direttore Angelo De Robertis ha voluto cercare in tutti i modi di fermarlo. Sentite. Pronto? Direttore, sono Luca Alba. Luca chi? Alba. Come? Scusi. Luca Alba. Luca Alba. Senti, direttore, ecco, la disturbo per un problema. Mi stanno chiamando diverse radio che mi richiedono fortemente. Le volevo solo dire, insomma, che... Guardi, se mi segnali esattamente chi sono queste persone che l'hanno contattata, io le chiamo personalmente per incoraggiarle nel concludere l'operazione in tempi brevi. Adesso da fare la saluto, grazie, arrivederci. Lei ha detto che si chiama Luca? Io sono Luca Alba. Vabbè, allora direttore, rimango, quindi. Allora rimango, eh. Salve, arrivederci. Grazie, rimango, salve, arrivederci. Voi non lo sapete, voi non lo sapete, ma dopo la telefonata di Luca, Radio Bruno si chiamerà Radio Luca, e Radio Latte e Miele si chiamerà Radio Latte... Miele! Questo è lo Zodi 105, e adesso un bel disco, vaffanculo! Bravo!